Voglio raccontare l'istoria del XX secolo. La mia ambizione è quella di ricreare la vita. Nella vita reale si incontrano centinaia di persone e a conti fatti ne incontriamo davvero tante e tutte queste persone in qualche misura ci cambiano e ci fanno evolvere. Dunque mi interessava raccontare tutta questa effervescenza che nasce dall'incontro di tante persone, luoghi, epoche. È una cosa che mi affascina moltissimo raccontare le storie.